Cosa è successo a questo Spezia oggi? Determinazione diversa anche nel recuperare la partita, ci abbiamo provato però troppo poco. Qualche lacuna in difesa? No, diciamo che in tutte le parti del campo ci voglia una cattiveria diversa per poter fare risultato su questi campi. Si aspettava un Varese così determinato? Sì, peccato non aver messo in evidenza quelle che magari potevano essere le problematiche che il Varese può vivere in questo momento, quindi abbiamo esaltato sicuramente i pregi. Il futuro di questo Spezia? Arriviamo da tre partite importanti dove Regina, Pescara e Avellino hanno fatto sì che c'era dell'ottimismo, c'era una crescita costante, avevano trovato gli equilibri anche giusti. Oggi sicuramente è un passo indietro, quattro gol sono pesanti.